Siamo noi i fantasmi, continuiamo a vivere e vederci nei luoghi che abbiamo lasciato. Poco ci importa se quel sentiero è ora soffocato dalle erbacce, se quella stanza ha cambiato funzione e da camera da letto ora è salotto. Non importa se tutto l'edificio è stato abbattuto e quel viottolo ora è una strada asfaltata. Noi siamo ancora lì, dove le cose sono rimaste come erano, ad arredare il nostro dentro. Grazie a tutti.